ciao a tutti carissimi eccoci qua di nuovo con qualche biglietto e vi ritrovate a tutti nel mio canale allora oggi abbiamo qualche bigliettino da trattare sempre dedicato allora sono 1 2 3 4 da 5 e 1 da 3 allora incominciamo dal bigliettino numero più piccolo diciamo così bigliettino più piccolo che il mamma non mamma questo lo dedico a viki 46 ciao viki e comunque col tuo numero non ho avuto fortuna questo è il numero 3 che anche un numero che mi piace serie 64 ok spero che mi piace anche a te vediamo un po' quello che ci dice vediamo di ziumare un po' ok allora passiamo alla nostra cattata allora bonus cuffie primo vetalo abbiamo il primo cuore abbiamo la mano secondo cuore terzo cuore scarpa quarto cuore matita nota sole arcobaleno quinto cuore pace macchina foto e sei cuori se non sbaglio allora 1 2 3 4 5 e 6 sì però le cuffie non ce le abbiamo no allora abbiamo un premio abbiamo preso 5 euro caro viki insomma abbiamo fatto anche una piccola vincitina 6 cuori 5 euro ok mettiamolo da parte questo passiamo al miliardario da 5 richiesto da antonella castagna ciao antonella tu volevi il 28 ma purtroppo non l'ho trovato e questo è il numero 27 6 e 46 spero che ti va bene ugualmente allora carissimo antonella vediamo un po' si mette a fuoco passiamo alla nostra grattata ok allora primo numero abbiamo 11 12 17 28 e 25 numero di piccolino un po' di posto maio lino ok allora prima ne va 35 niente abbiamo 25 segue 19 42 15 niente e 27 abbiamo il 28 abbiamo 25 sì una visita che l'abbiamo 41 43 niente 44 neanche e 31 niente di fatto ultima riga 14 no 30 niente 33 non ce l'abbiamo 23 non c'è ultimo numero 20 niente abbiamo preso il 25 vediamo un po' si legge già quello che è e 5 euro comunque non è perdente carissima 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 antonella abbiamo ripreso il prezzo del bigliettino e va bene anche così no siamo contenti meglio di niente è sicuro adesso passiamo alla prima battaglia navale richiesta da eugenia seneraro ciao eugenia ecco qui il tuo biglietto tu non mi avevi chiesto numero comunque mi sembra no allora numero 34 serie 73 vediamo un po' quello che ci dice ma incomincia a non che non vuole mettere a fuoco sta mia camera non so perché vediamo facciamo piano piano come l'altra volta che ho dovuto fare così non vuole andare in fretta ok dai forza che ce la facciamo ok va bene così riesco a incontrare tutto forza forza così ok allora prima coordinata forza fermiamo forza calcolpita h7 acqua e3 questa è due queste due queste questo è quella grande H1 questa pure quella grande E5 acqua A7 acqua, maialino che dà una bella botta A6 colpito H4 sempre la grande e non ce la darà mai F5 acqua e C4 mi dispiace ma che nel momento non abbiamo niente cara Eugenia passiamo alla ricerca dello scrigno vediamo un po' che ci dice Barche e barghettine onde e ondine ma scrigno non ne vedo io sicuramente non ce ne sarà niente scrigno carissima mi dispiace ma il bigliettino non è vincente sarebbe la prossima volta adesso passiamo al 20 per richiesto da Ida Lucignano ciao Ida ecco qui il tuo numero no non c'è il numero il biglietto volevo dire tu non mi hai chiesto il numero neanche questo è il numero 8 della serie 1 vediamo un po' che ci dice questo 20 per ci mette a fuoco ok ce la facciamo bene primo numero vincente allora 27 29 14 18 e 30 ok vediamo un po' primo numero 35 segue 11 che non c'è abbiamo 12 niente di fatto e 43 niente 26 abbiamo il 27 25 non c'è 46 neanche 37 non ce l'abbiamo e 32 neanche 17 non c'è l'ultima riga 39 niente 31 non c'è 36 neanche 13 abbiamo il 14 ultimo numero 19 abbiamo il 18 carissima carissima ma questo biglietto non ci ha portato niente sarà per la prossima volta mi dispiace adesso passiamo all'ultimo bigliettino di oggi che è una battaglia navale richiesta da Nadia Fortino ciao Nadia e comunque non è il tuo numero tu volevi il 54 ma io ho trovato il 57 ecco qua della serie 73 vediamo un po' che ci dice allora le coordinate ok prima coordinata G4 con il fito abbiamo F6 acqua F4 acqua G5 questo è quello grande G7 acqua acqua A6 ecco la pezzetta H5 acqua A7 ok B7 acqua ultima coordinata F7 niente abbiamo fatto niente purtroppo carissima per il momento non c'è niente cara Nadia passiamo alla ricerca dello scrigno vediamo un po' ecco le barche barchettine non ce ne ha voluto dare nessuna ma niente niente questo biglietto non è vincente cara Nadia sarà della prossima volta ok allora facciamo un po' di resoconte qui abbiamo tre bigliettini per dentro vediamo un po' si stringe ok allora qui abbiamo questi sono tre biglietti di verdenti due battaglie novali e il ventipero non abbiamo fatto niente poi abbiamo due vincenti il miliardario e il mamma non mamma il miliardario ci ha dato 5 euro con il 25 non c'è per caso un altro numero no io non lo vedo vabbè comunque quando ricontrollo voi con l'applicazione si vede ma penso che non c'è niente altro e poi abbiamo il mamma non mamma che abbiamo preso 6 cuori dunque 5 euro allora 10 euro di nuovo abbiamo fatto come l'altro giorno abbiamo fatto uguale e bene comunque un po' di recupero l'abbiamo fatto chiudiamo il video di oggi con con desidero di recupero bene così ringrazio tutti per la visione cari amici continuate a seguirmi pollice in su se vi è piaciuto il video e vi do appuntamento al prossimo ok ciao ciao a tutti un bacio un abbraccio dalla Lina ciao un abbraccio ciao a tutti